Il dottor Huntington ha scoperto una malattia sconosciuta. La malattia di Huntington, così si chiama tuttora. Huntington è una malattia ereditaria. Huntington è una malattia che altera il movimento. Huntington è una malattia che sconvolge la personalità. Huntington è una malattia che colpisce il cervello. Huntington è una malattia da cui ancora oggi non si può guarire. I malati di Huntington hanno bisogno di molta cura. E noi ce ne occupiamo. Prendersi cura è nel nostro DNA.